ma quando esplode terra? per scra troppo domani oh ma ci si è da guagno schifo schifo fotonico schifo sfotonico andiamo qua ma ci si è da guagno non ci sono fonte non fonte al fonte li buttano non ho colpito non l'hanno attivato lo sciacallo eh raga però stanno di pronto qua ora l'hanno attivato ci riuniamo? hai cagato a bombe stiamo andando avanti e andiamo a pushare chi non l'ha tirato andiamo a pushare intanto non possono uscire saranno bloccati sopra c'è una claymore che è esposta davanti a me raga mi hanno colpito mi hanno colpito no no raga stanno qua sopra ragazzi ecco ecco intorno fuori dentro raga dentro qua eh sono circondato eh vabbè no erano miliardi quattro e più nemmeno di noi si ma è un contro di meta solo erano in miliardi eeeh eeeh eh già il push con le armi nostre non li vincevano vogliamoci con le armi con codere provocare l'armato è utile per entrargli nella testa babudodio babudonia ragazzi mi ha fatto spawnare a dam kit e murt vado a fare i zombie vado a fare i zombie no ah ho fatto imparare un saccalino qua dai lo faccio io meh ma adesso viene a me adesso assurdo 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 ma sei un trimone a vento sei aspetta la mi fottono mi fottono l'elicottero così io delle bufere marco va bene va bene fra te fra te a te chiedo di più a te chiedo di più frate tu puoi dare di più si tu sei più di questo dai che ce l'ha fatto sei più di questo spettroni che ci hai fatto vedere ora forza sei uno dei primi ad aver calcato il campo di verdansk se ma gioco poco giusto gioco veramente poco mi buscano questi mi buscano ma che voglio il verdino si è arenato audio voglio attivare vabbè aspettiamo aspettiamo pop dania magrone ma la spettro va va e comincia a fare la cassa cosa professo posso domandarti una cosa ma dal momento che si è arrivato al carrello hai fatto la mission perché non è l'animato viaggio si è comprato il kit fra te tu sei un tu sei un drogato come io nella vita mia ne ho visti veramente pochi ne ho visti veramente pochi c'è sei completamente fatto ma tu sei un tossico spettro rianima qua biaggio va no andate la è uguale abbiamo sempre 4000 costo ci andremo a prendere il kit la no non lo fate solo uno abbiamo biaggio mi devi fare andare a qua ancora o compro te o compro il kit come te lo devo dire gratis è solo una cosa e ti abbiamo comprato spettro perché non hai comprato biaggio ragazzi ma voi siete dei tossici veramente ma se io non ci arrivo la o se muoio prima che facciamo vai da professore vai da professore vai da professore vai da professore che sbando dio delle bufere che sbando che sbando che sbando che sbando ragazzi non ho parole prendo l'equipaggio ragazzi abbiamo sprecato quattro un rifornimento veloce a prendere l'equipaggio risposta giuseppe no 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 fantasma siete una manica di drogati ragazzi ti sei fatto perdonare che cusca sono soldi tuoi ho sciacallo giuseppe oppure stanno delle missioncine vuoi fare delle bandierine giuseppe ehm la storia gioerpo andiamo a prenderci il treno marco mi piace non si è fatto perdonare ah nooo cosa gli sei fatto perdonare vabbè 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 vabb C'è, al treno non è andato nessuno. Come no? Qua sta aperta a me la cassa. Qua c'è una maschera, raga. Ah, Marco, stanno davanti, stanno davanti, occhio. Siamo morti, raga. Ah, elicottero, andiamo via, elicottero, andiamo via. Aspetta, io c'è il cicchio, ma aspetta. Marco, l'elicottero è nostro. Ah, no, pensavo... Follito. C'è gente davanti a noi. Sì, 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 sì. È un miracolo se riesce a vincere. Vai, 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 parti, 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 parti. Supera sto buco, vediamo se riusciamo a recuperare il treno più avanti. Vai qua. No, c'è gente qua sotto, bia. Vai largo. Vai qua. È sonnerato carriera, è ufficiale. Compra corazze, chiaramente. Eh, vaffanculo. Con un centimetro non ce l'ho fatta. Ho cammamato. Vai. 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 Babudogno. Babudogno. Un po' è dietro di noi. Un po' è dietro di noi. Un po' è di coppia, però. Un po' è in mezzo. Un po' è di coppia. Adesso mi spami un po'. Ma giù, 4.000 ce li abbiamo. Vai, facciamo il primo rest, va. Lanciami i soldi dal treno. Babudadia. Risali poi. Tu ti attivi la missione, io provo a rianimare. Vai, Babudadia. 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 Ma la macchina è davanti a me. Ho rianimato il primo. Non voglio stare qua, ma fa schifo. Non voglio stare qua, ma fa schifo. Sto salendo. Non c'è il treno. No, non andare sul treno. Francia è l'ha ammazzata a Francia. Sì, ma mi ha fatto sbavonare proprio sopra. Era basso, stava proprio sopra me. Era basso proprio. Ma ho capito perché fa così, in questo momento. Quando ti rianimano, ti fa rinascere basso. Beh, come un gutro, il mo' se ne va in dalla zona rossa. Non c'è. No, 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 no. Oh, 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 no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Beh no, mi uccidimo in volo No, mi invece vi compro un kit In un'azione, così la sfrega C***o, non si riuscite neanche a usarli Datemi i resti, raga Oh, spara, spara Uno mi sembra che è Tirato a bombardamento Non è uno, non è uno Non è uno No E' mani in aria, Francia Eh, ma è basso Audio, audio Giuseppe, qua dentro stanno Piano di su, Giuseppe, piano di su Finestra di su Vai, vai, chi è calcato, vai Qua ragazzi, l'ho pingato Con le pistolette, per te Fatto L'avete fatto? Sì, sì, ti rianimo Ma comunque le pistolette Vanno Assurdo Ma mi ha rianimato il prof al volo C***o vuol dire Cheee Una situazione multitasking Vai Oh, è l'equipaggio a me, di circo Ma è non lo può Non me lo fa prendere, ragazzi non me lo fa prendere Mi sa che hanno risolto quella storia, hanno risolto Vabbè, Marco non avrei fantasma, le armi ce li hai però, no? E che cosa hanno risolto, dimmi Allora, se tu hai già preso Cioè, se tu hai preso il loadout Poi muori e torni Non lo puoi riprendertelo Non si è preso il mio chilo, raga Va dentro stavano coraggio Non io Trovate, trovate Se mi date piastre, se mi date piastre, sold out Non le vedo più qua Le lasciate io qui, ragazzi Qua E qua Spero, leva il ping poi, per favore Un attimo Pistole Dove sono? Questa è Socroking, doppia arma Socroking Marco, si usano tenendo le premute Capito? Ok, ok Non devi fare Devi stare Vavi nemico in volo Solo Marco non una fantasma, giusto? Tutte e due Reune, re due Reune, re uno Ok, ok E col verde devi mirare in alto, diciamo Raga, copritemi che vado ad attivare la taglia, questa qui E ci rendiamo conto C'è un nemice alla benzina? 3x8 vieni qua Ce l'ha annullato, molto bene Eh, teniamoli d'occhio questi A me, a me, io non l'ho preso Stanno facendo il giro, sono entrati qua Mancato completamente Eh raga, avanziamo Anticipiamo C'è un nemico qua Che brutta Brutta zona No, no, no Marco E' questa gente A zonaccio No, non tutti nello stesso aereo Cerchiamo di stare in due aerei vicini Eh, là Ok, me ne vado, me ne vado, me ne vado Me ne vado Ma che casino però Madonna E' una fata sul gioco Veramente Sempre peggio Cristiani che parlano a radio Aerei Verrà gente da qui, ricordiamoci Io sto guardando più nord-est Io guardo sud-est Ah sì, in avvicinamento Io nord-est Prof, tu devi guardare Con me In quest'area qui Sì Perché non l'abbiamo controllata quella Nord Io faccio un po' e un po' Ho visto uno qua dietro Ok, lo vedo, lo vedo Arriva Dal prof Sono due forse, occhio A terra Avete bisogno di cerco Stanno tutti dietro i mureti qua Ecco sì, dobbiamo fare A terra Fatto Confermato Wow, 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 wow Da dove? Sempre allo stesso punto Da me nessuno, eh Da sud-est nessuno Oh, qualcuno che guarda da là Sì, da dentro là Da qua dietro ragazzi Tutta a sinistra stanno Sì, sì Perché da me nessuno, raga Tranquilli Ok, ok Arriva qualche di un altro? No, sta qua Eh, che cazzo Di merda Anticipiamo Oh, cazzo Qua da me, raga Da me, da me Qua davanti, raga Vai, lutatelo Cercate di rianimarmi Eventualmente, dai Cioè, avete il carrello davanti a voi Dai, ce li avete per il rest Forza Uno che, uno che ci provi, raga Dammi i soldi, pro Dammi i soldi Lo sto, pro Qualcun che mi viene a coprire No, no Eh, cazzo Le armi Andiamo insieme, andiamo insieme Andiamo insieme Viaggio, stai venendo? Sì, Marco Sto capace Eh, lo so, lo so Marco, ti stanno aspettando Un sacco di nemici Volevo rimanere qua, Viaggio Così a cazzo, guarda Eh, zico Qua, però Avvicinandocela se io Guardiamoci le spalle, Viaggio Giuseppe, che cosa vuol Dele pistole? Eh, una M6 Dammi qualche colpo E dammi un paio di piastre Oh, a me, da bene Qualche colpo, via Perché c'è il caricatore da 30? Giuseppe, tieni qua pure Tieni un po' di piastre Mi sparano Perché non posso prendermi Oh, ragazzi C'è un cecchino qua Ok Tu senti dei colpi Se mi avvicino a te Sto dietro al guard rail Grazie, vi copro Io da qua Qua dentro sta qualcuno, eh Sì, sì, li sto spettando Era, era il nostro Quanti mi mancano, raga? Sì, ti ho dato tutto Oh, c'è, assurdo Bravo, prof Vai, professor Vai, professor 3, 9, raga 4, sono Quindi 5 divisi in due team Con calma Gestiamo 4, 2, 4, 1, 4, 3, 2 Gestiamo Calmi Va dentro, ragazzi Qua dentro Da dentro, Sam Sì, Marco Fagli uscire Vai, è come si muove la safe ora Chi la vince Fra, rimani largo là, tu Vieni da noi Vieni da noi Vieni da noi Andiamo tutta a sinistra Tutta a sinistra Dietro, dietro il suo muretto qua Andate, io li prendo le spalle Andate, andate Sto, sono un MC Sto, sono, sono Sto Andiamo, giù, sentiamo insieme So, so, ho tirato il bombardamento Beh, facciamoli il comitato d'accoglienza, raga Uno a terra Fali uscire, fali uscire Comitato d'accoglienza, bagnum Sfondiamoli il culo Dove stanno? Dietro il muretto Ah, qua, qua Qua, fali uscire Sinistra, sinistra, sinistra Eh, sono andato Sì Sì La sienta La sienta La sienta Bravi, raga Bravi, bravi Gestita molto, molto, molto bene E mi sa che ho fatto l'arte finale della sienta Giusto così Magistrale, magistrale, magistrale Benvenuto nel club Benvenuto nel club La sienta Ma li avevamo scattati sani sani, eh Eh, non era fatto l'arte, cioè, siamo morti più volte Sì Aveva arrivato bene Top Bene, bravi così Back to back, back to back, back to back Back to back, che lo sai Share La sienta Grazie a tutti